Sopportare qualche giorno di traffico estremo o mettere mano alla viabilità dell'altopiano con costosi interventi e progettazioni a lungo termine? L'eterna domanda sulla percorribilità delle strade dei sette comuni ritorna di prepotenti attualità in questi giorni di intenso traffico con chilometri di colonne e ore di attesa per poter arrivare in altopiano o per uscirne. Il sindaco di Gallio propende decisamente per la prima ipotesi. 20 giorni di traffico all'anno non sono quelli che rovinano la vita a nessuno quindi io dico sempre agli automobilisti, a coloro che vengono e che salgano di giorno sull'altopiano magari partite qualche minuto prima o qualche ora prima, partite magari anche verso sera fermatevi a cenare sull'altopiano e magari poi con calma scendete. Sopportare quindi, tener duro per qualche giorno. Poi i serpentoni di auto spariranno per lasciare posto a un turismo diverso. Per quanto mi riguarda la viabilità poi è assolutamente sufficiente per l'altopiano quindi per 20 giorni portiamo pazienza. Secondo il sindaco di Gallio infatti alcuni giorni di intasamenti e difficoltà sono comuni a tutte le aree turistiche di grande richiamo, siano esse di montagna o di mare. Questo succede anche nelle località marine perché se si va nelle nostre coste a Jesolo piuttosto che a Bibione, piuttosto che a Sottomarina, si trovano nelle stesse condizioni e lì le strade ci sono perché lì non è che manchino le strade è che quando c'è un certo flusso, un certo numero di macchine, di turisti è impossibile far fronte, ci vorrebbe un'autostrada ma questa è impensabile. Il dibattito è aperto, si accettano proposte.